Mi raccomando, dal 10 ottobre tutti in sala a vedere Il Robot Selvaggio, assolutamente. Ieri ho visto l'anteprima nazionale in sala, l'ultimo lavoro, l'ultimo magnifico lavoro della DreamWorks, quest'anno la DreamWorks ha fatto uscire ben tre film, Orion e il Buio solo su Netflix, poi Kung Fu Panda 4 di cui trovate la recensione sul canale, e adesso appunto quest'ultimo del 2024, ovvero Il Robot Selvaggio. Tratto dal libro per bambini, comunque per ragazzini, Il Robot Selvatico, in italiano Il Robot Selvaggio è stato adattato in questo modo, anche per diversi motivi proprio logici di adattamento all'interno del film, ma non ne voglio parlare adesso, sarebbe spoiler in qualche modo, ma non rovinerebbe comunque il film. In ogni caso, io attendevo quest'ultimo prodotto DreamWorks, soprattutto per alcuni pareri che ero riuscito a recuperare sia dall'estero ma anche da alcuni italiani colleghi che hanno potuto vederlo in anteprima, e lo attendevo soprattutto per l'animazione, per anche la regia, perché abbiamo Chris Sanders alla regia, ovvero il regista di Lilo e Stitch, che è uno dei miei classici Disney preferiti, da bimbo 2004, quale sono, e anche il regista di Dragon Trainer, che è sicuramente uno dei film migliori della DreamWorks, quindi, beh, giusto un po' le aspettative alte, posso dirlo. E fortunatamente queste aspettative sono tutte state ripagate, Il Robot Selvaggio, come ho detto anche all'inizio del video, è un film magnifico, soprattutto, ma non solo, a livello tecnico, perché intanto l'animazione che vediamo è veramente stupenda, abbiamo questo stile pennellate, letteralmente, sia i personaggi ma anche gli sfondi, soprattutto gli sfondi presentano proprio le pennellate di colore, e questa cosa non so spiegarla benissimo, anche perché non sono un grandissimo esperto di animazione, quindi non so neanche definire bene questa tecnica o stile, non so se definirla tecnica o stile, appunto. Fatto sta che mi è piaciuto tantissimo, perché questo stile o tecnica, in concorso alla regia del film e alla fotografia, rendono tutto molto, a livello cinematografico, stupendo, da vedere veramente bellissimo. Sicuramente il livello tecnico del film è la cosa migliore del Robot Selvaggio, ma comunque la storia, tutto ciò che vediamo, tutto ciò che il film racconta, anche i personaggi, la scrittura dei personaggi, non è da meno. Infatti, per quanto mi riguarda, è un film promosso sotto quasi tutti i punti di vista. A livello soggettivo potrei dire che ci sono due cose, proprio, letteralmente due cose, che non mi hanno proprio convinto al 100%, magari ne parliamo dopo, in questa recensione non ci sarà spoiler, anche perché il film deve uscire ancora, sì, l'avranno visto già diverse persone, ma ho deciso di fare una recensione completamente senza spoiler. Appunto, stavo dicendo che la storia è comunque molto derivativa, ci sono tantissime reference, sì che il film è appunto tratto da un libro, ma ovviamente il libro che ho letto comunque per metà, non ho voluto finirlo prima di vedere il film, perché volevo tutte le sorprese comunque al cinema, ma credo che comunque lo continuerò. Anche all'interno del libro sono chiari i riferimenti voluti che la storia, i personaggi, mettono in atto, sia nei comportamenti, ma anche a livello, per quanto riguarda il film, visivo. Ripeto, è derivativo, ma non è assolutamente un problema. A un certo punto c'è anche qualcosa di Star Wars, per dirvi, ma sinceramente non è un problema, e io comunque me ne fregherei, se fosse anche un problema, visto il livello altissimo di qualità di questo film. Ragazzi, però, prima di continuare con la recensione, vi ricordo che in descrizione trovate il link di Pampling, il sito di T-Shirt, e non solo dove trovate tantissimi design, come anche quello che vedete in questo video di Sdentato da Dragon Trainer, ma anche tantissimi altri, e in questo momento c'è la promozione 3x30, ovvero prenderete 3 T-Shirt a soli 10€ l'una, e poi dalla quarta in poi, appunto, sempre 10€. Non solo, perché ovviamente c'è sempre il codice ILPENSIERO4, che vi darà la possibilità, al momento del pagamento, di inserire un paio di calze nel carrello, e queste calze saranno totalmente gratuite, infatti sarò un regalo del sito e del mio codice. Ma adesso continuiamo con la recensione, ripeto che il link di Pampling è in descrizione, se volete qualche T-Shirt andate a controllare il mega catalogo che hanno, perché è veramente enorme e soprattutto bellissimo. Io ho adorato i personaggi in questo film, partendo dalla protagonista, che è appunto Roz, Rozum, che tra l'altro è un riferimento a una piesta etrale da cui è nato il termine robot, ho letto questa curiosità per farci un video, ma poi l'ho scartato comunque, la dico qua. Roz è un riferimento a Rozum Universal Robots, che è appunto questa piesta teatrale del 1920, una cosa del genere comunque, sicuramente nel decennio dal 20 al 30, ed è appunto lì che nasce la parola robot, che si riferisce all'umanoide metallico. Da quel momento in poi sarà inserita appunto nel vocabolario inglese e anche, soprattutto, nella fantascienza. Ma questa è comunque un'altra storia. Io questa Roz, l'ho veramente apprezzata fin da subito. Dai primi secondi in cui si vede, infatti, abbiamo questa presentazione di un personaggio che deve effettivamente scoprire ciò che la circonda, nonostante sappia già della presenza e dell'esistenza di alcune cose. E appunto si deve in qualche modo adattare a questa nuova, non direi nuova, prima esperienza di vita che ha, perché sappiamo, cioè, no, in realtà non sappiamo perché cambia un po' l'ordine degli avvenimenti tra il libro e il film. Infatti io già sapevo delle cose che all'interno del film vengono poi fatte scoprire verso metà, ovviamente non le dirò in questo video, però appunto sappiamo che è la prima volta che questa Rozum, Roz, è viva. Viva per modo di dire, è comunque un robot, sì. Ok? Finisco qui di parlare in questo senso. È viva, va bene. Andate a guardare questo film, per favore. E non solo si deve adattare a questa prima nuova esperienza di vita, ma deve anche adattarsi a fare la madre con questo pulcino di Oka, becco lustro appunto, che è ovvio, almeno all'interno del film, si capisce che abbia in qualche modo delle disabilità. Possiamo dire che c'è anche un po' appunto una reference, un riferimento, un modello preso dal brutto natroccolo. È abbastanza palese come cosa, anche se poi diciamo che le storie in qualche modo prendono due strade un po' diverse. Sicuramente però uno dei temi principali del film è proprio la disabilità e come questo elemento si rapporta nella civiltà, nella vita di tutti i giorni, che sia anche di animali, perché comunque qui abbiamo solo personaggi, tra i principali, solo personaggi animali e l'unico elemento esterno è appunto il robot, doppietto in originale da Lupita Nyong'u. Nel film c'è anche Pedro Pascal, che interpreta forse il mio personaggio preferito, potrei dire che Tink, la volpe, è il mio personaggio preferito all'interno del film, perché ha un escalation, una caratterizzazione che è migliore ed effettivamente si evolve in modo sensato, la sua evoluzione come personaggio è come persona. Andiamoci, non è una persona, però vedendo i personaggi come se fossero degli umani, la sua evoluzione da persona è veramente tanto interessante, soprattutto in alcuni punti molto toccante. In generale l'intero film riesce a toccare ed emozionare sotto diversi punti di vista. Io sono riuscito a emozionarmi soprattutto anche per alcune scene a livello registico, perché ce ne sono davvero alcune che mi hanno fatto, che mi hanno lasciato a bocca aperta per come erano animate, per i colori che si vedevano. Veramente una bellissima animazione, spero che DreamWorks continui su questa strada, anche per altri film, non che si specializzi solo su questa cosa, perché a me piace l'idea di variare. Infatti, se non sbaglio, il prossimo film sarà Dogman, che è tratto da un altro libro per bambini, o fumetto forse, sì, un fumetto per bambini, dello stesso autore di Capitan Mutanda, da cui la DreamWorks aveva già tratto un film, e infatti sarà in quello stesso stile. Non ho visto il trailer, però guardando il poster sembra comunque lo stesso stile di Capitan Mutanda. Carino quel film sul supereroe Mutanda, ma non me lo ricordo particolarmente. L'animazione era comunque carina. Se dovessero continuare sia con questo stile, ma anche con altri stili, che sia anche quello del gatto con gli stivali, che si rifà molto agli anime giapponesi, e al nuovo stile, nuovo per dire, nuovo stile di Into the Spider-Verse, per me va benissimo. DreamWorks potrebbe diventare di nuovo, più o meno, la mia casa di produzione d'animazione preferita. Al momento, da qualche anno, la Pixar è al primo posto, ma la DreamWorks è subito sotto. Vedremo comunque nei prossimi anni. Tornando però ai personaggi del robot selvaggio, oltre ai tre personaggi protagonisti, quindi Rosum, Tink, la volpe, e Becco, Lustro, mi viene a dire Fiero Becco, ma Fiero Becco è quello di Harry Potter, non c'entra assolutamente nulla, abbiamo anche dei comprimari molto interessanti, perché nonostante abbiano poco screen time alcuni, altri ne hanno un po' di più, come per esempio il castoro, sì, se non sbaglio è un castoro, non so bene definire quel tipo di animale, dovrebbe essere un castoro, che ha un hobby particolare, che poi torna utile naturalmente, abbiamo anche la Mamma Opossum, con i cuccioli, non dirò il numero dei cuccioli, perché quella parte mi ha ammazzato, ecco, parleremo anche di questa ammazzare, io ho adorato tutti i momenti in cui si vede la cucciolata della Mamma Opossum, ma anche il coniglietto e l'alce, ci sono diversi personaggi comparse, possiamo dire, che hanno dei momenti veramente divertenti, infatti il film in generale mi ha fatto molto ridere, mi sono fatto trascinare anche per le scene un po' più fisiche, che si facevano ridere molto i bambini, infatti la sala era comunque piena, io sono contentissimo di questa cosa, molto piena, anche perché appunto era piena di bambini, con genitori annessi, naturalmente, questa cosa è un bene, perché il film non è solo per bambini, anzi, potremmo dire che ci sono molte cose, soprattutto per gli adulti, Rose in qualche modo è una madre, e la maternità è uno degli elementi principali di questo film, quindi può essere utile e toccante anche per non solo dei bambini, e un altro tema è comunque la morte, che qui è veramente tanto, tanto presente, io non me lo sarei mai aspettato in questo modo, posso assicurarvelo, è probabilmente uno dei film con questo target, principalmente infantile, in cui viene detta la parola morte così tante volte, forse è l'unico film animato di questo tipo, in cui appunto si vedono queste cose, e vengono dette certe cose, si scherza tantissimo sulla morte, e per quanto mi riguarda questo è il miglior modo per poterne parlare a un bambino, esorcizzando la morte, che comunque, come ho rivisto da poco per la terza volta il film di Guillermo del Toro su Pinocchio, è la morte è la cosa che rende la vita speciale e unica, e per me, secondo il mio pensiero, non sono ovviamente un genitore, ma è una delle cose che deve essere spiegata fin da subito ai bambini, e questo quello, il modo in cui lo fa il robot selvaggio, è il modo perfetto, però vi assicuro che è la prima volta che ho visto un certo momento violento, non me lo sarei veramente aspettato, ho guardato il mio amico che era accanto a me a vedere il film, e ho detto, cosa? quella è una testa? sì, è una testa, però vabbè, non dico altro, ora, magari detto così a un genitore che guarda questo video e voleva portare il figlio a vedere il film, non è un film splatter, non è un film gore, ci sono solo delle cose, il cerchio della vita, diciamo, ci sono gli animali, quindi potete un po' capire di cosa sto parlando, quella violenza non scandalizza assolutamente nessuno, anzi, è presentata anche un po' in modo come delle gag fisiche, in cui sì, muoiono degli animali, però comunque ho sentito i bambini ridere, quindi tu, possibile genitore che sta guardando questo video, se hai pensato per un momento di non portare più il figlio a vedere questo film perché hai sentito violenza, no, porta comunque a vedere il film perché intanto si merita di avere successo, e spero che in qualche modo potrà avere un giorno un sequel, poter diventare anche uno dei maggiori successi della Dreamworks, spero veramente, sta uscendo anche il sequel del libro originale, quindi magari un sequel cinematografico potrebbe anche avvenire, e io lo vorrei, sempre se dovesse tornare Sanders alla regia e dovessero mantenere questi elementi visivi e narrativi. Adesso appunto, come ho detto, finirò il libro, magari su Instagram scriverò due paroline a riguardo, senza spoiler ovviamente, andrò a fare magari il confronto con, tra libro e film, per ora posso dirvi che sì, è molto simile, anche se nel libro, essendo più un racconto per bambini, ci sono più descrizioni, tantissime descrizioni, e momenti che non sono stati presi in un'ora e quaranta di film, anche perché abbastanza inutili, possiamo dirlo, era solo per presentarci un po' la fauna, e i personaggi secondari, che credo, perché ancora non ho finito il libro, torneranno utili anche all'interno della storia originale. Per esempio nel film hanno tolto una scogliattolina che sembrava interessante all'interno del libro, anche perché presentava in teoria un altro problema, che un bambino, una ragazzina, possono avere a quell'età, però capisco che non c'era modo di raccontare ogni singola cosa che veniva raccontata nel libro, quindi ci sta. Passiamo alle uniche due cose che non mi hanno proprio convinto al 100%, ovvero a un certo punto c'è un po' in stile film anni 2000, un po' in stile classico Disney, diciamo, c'è il montaggio musicale con diverse scene, che portano avanti effettivamente la storia, quindi ha senso, e sono anche molto interessanti, sia registicamente, ma anche per proprio ciò che accade a livello narrativo, sono importanti per la storia e per i personaggi, però appena è partita la canzone, tra l'altro a un certo punto mi sembrava pure fatta con l'intelligenza artificiale, non sarà fatta assolutamente con l'intelligenza artificiale, però mi ha dato quell'impressione, infatti l'ho detto anche al mio amico, quel momento non dico totalmente, ma mi ha fatto un po' storcere il naso, leggermente, poi letteralmente seconda e ultima cosa che non mi ha convinto al 100%, nella parte centrale, quando succede una cosa che cambia molto lo status quo del film, sembrano due film diversi, ed è una cosa che sto riscontrando in molti film ultimamente, soprattutto film del 2024, non so per quale motivo sta succedendo questa cosa, è successo anche con Partenope, recensione, che sta andando veramente tanto tanto bene presso i fan di Sorrentino, comunque la trovate da qualche parte nelle schede, ma qui è una cosa che succede veramente per poco, è solo in quell'episodio, almeno è stata una mia impressione, questo posso dirvelo, magari non è una cosa a cui assisteranno e sentiranno tutti, ma quando un certo personaggio decide di fare una cosa, e c'è una sorta di allontanamento, il film sembra un po' cambiare, ma poi ritorna subito quando si passa ad un'altra ambientazione, la stessa ambientazione diciamo che si è conosciuta fin lì, e diciamo che da lì in poi si va sempre più a crescere a livello di tutto, posso assicurarvelo. Io avevo una sola grande paura per questo film, che mi è venuta solo con i diversi trailer dopo il primissimo uscito tanto tempo fa, per esempio già questo trailer si vedeva con Kung Fu Panda 4, se non sbaglio, in quel teaser il film sembrava completamente muto, quindi non si sapeva se, almeno chi non aveva letto il libro, non sapeva se Rose e gli animali parlassero, e io avrei anche preferito così, vedendo gli altri trailer, che tra l'altro spoilerano tantissimo, quindi se non avete ancora visto quei trailer non guardateli, perché c'è letteralmente tutto il film, un trailer è letteralmente solo il finale, ma appunto questa era la mia paura, o di un altro film in cui gli animali parlano e bla 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 bla, parleranno tantissimo, sì parlano, ma parlano bene, posso dire questo, non è un problema. Sarei ancora curioso di questa sperimentazione di un film, comunque per bambini, per ragazzini, animato completamente muto, un po' come il mio amico Robot, che ho visto un po' in ritardo e ho apprezzato, ma non tantissimo, non come molti che l'hanno visto, per l'occasione degli Oscar, appunto sarei un po' curioso per questa dimensione alternativa, in cui il Robot Selvaggio era un film muto, dove Rose, non muto, senza dialoghi, non muto totalmente, senza rumori, senza musica, un film in cui i personaggi non parlano tra di loro, almeno con i dialoghi, perché poi sia Rose che gli altri personaggi sono molto espressivi, e l'espressività di Rose non nasce da elementi fisionomici a parte gli occhi, perché è l'unica cosa che ha. Gli occhi rimangono comunque della stessa forma, è ciò che succede all'interno che cambia. Ah sì, braccia e gambe Rose, però, come posso dire, si esprime meglio sia con le luci che con gli occhi fotocamera, perché ha appunto delle fotocamere all'interno degli occhi, o comunque dei diaframmi. Quindi, tornando al succo, per chi come me aveva questa paura, questo timore, che il film potesse essere inferiore alle aspettative a causa di questo parlare degli animali, di esprimersi in questo modo, no, va bene così. Ho sentito, tra l'altro, gente lamentarsi del fatto che gli animali non riescono a comunicare tra le specie nella realtà. Come potrei dire a queste persone che gli animali non parlano realmente? È un film d'animazione. Non lo so, mi fanno ridere questi commenti che ogni tanto sento per film in generale. abbiamo visto un film d'animazione in cui un robot diventa la mamma di un nanatroccolo, di un cucciolo, di un pulcino d'oca, e gli animali parlano. Ma vabbè, chiudiamo qui il discorso. Ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto se avete già visto il film all'anteprima di ieri, 29 settembre. Fatemi anche sapere se non l'avete visto, quindi se andrete anche a vederlo possibilmente dal 10 ottobre, quando sarà disponibile per tutti, in sala. Ripeto per l'ennesima volta che voglio assolutamente che questo film abbia successo, quindi andate a vederlo con la vostra famiglia, anche se avete, non lo so, 60 anni, se state guardando questo video e avete 60 anni o più, portate tutti i familiari che avete o andateci soli se non potete, perché non potete perdervi questo tipo di film. Soprattutto se vi piace l'animazione e se pensate che l'animazione invece sia solo per bambini e quindi manderete solo i vostri figli o nipoti o quello che volete, no, andate pure voi, vi sto obbligando. Vi ricordo prima di lasciarci che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social Instagram, TikTok e Letterboxd dove ho scritto la mini recensione subito dopo essere uscito dalla sala, quindi se non volete perdervi i miei pensieri in breve per un film sia in sala o uscito da tempo o uscito su una piattaforma streaming, trovate il mio profilo Letterboxd in descrizione, Letterboxd, non dimentichiamo quella di finale, andate a controllare tutti gli altri miei profili social, tanto i link sono nella descrizione, assieme al link di Pampling, quindi se volete la t-shirt che indosso oggi a tema Dragon Trainer o altri temi, cercate quello che volete su Pampling e penso che almeno una t-shirt la troviate. Il link è in descrizione, vi ricordo il codice ilpensiero4 per avere un paio di calze gratis a scelta, quindi scegliete le calze che volete e il sito e il mio codice ve le regala senza spendere assolutamente un centesimo oltre agli acquisti che farete. Vi ricordo che attualmente c'è il 3x30, 3 t-shirt a 10€ l'una, dalla quarta ovviamente sempre 10€. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!